Mister, buonasera, complimenti, serata perfetta, tre punti, tre gol e clean sheet. Sì, abbiamo fatto una partita seria, organizzata, contro un avversario in salute che stava bene. Ci godiamo questo successo e cercheremo di preparare al meglio la partita per venerdì con la Lazio. I due gol che sono arrivati dai quattro attaccanti rispettivamente schierati in campo, era uno schema che avevate provato già in allenamento? Chiaramente devono giocare sempre tra di loro, i ragazzi stasera sono stati bravissimi, prima Lautaro e Lukaku e poi Gioca e Correa quando sono entrati hanno fatto molto molto bene, sono soddisfatto di questo. Ha avuto delle risposte importanti anche dai giocatori che sono subentrati, ha quindi i famosi 20 giocatori di movimento che chiedeva? Sì, sono molto soddisfatto, poi di volta in volta chiaramente dovrò scegliere l'11 migliore per iniziare e cercherò di farlo nel migliore dei modi. Studio. Buonasera mister, complimenti per la prestazione. Al di là della vittoria, quanto è contento di aver, al di là del risultato, riabbracciato un San Siro subito alla prima giornata così pieno, così caloroso che vi ha trasmesso subito un grande calore e un grande affetto. Penso che sia un punto di partenza come sempre importante e fondamentale. Bellissimo perché forse per quello che il primo quarto d'ora e 20 minuti eravamo leggermente contratti, perché sentivamo il ritorno a San Siro, perché abbiamo visto l'atmosfera già arrivando allo stadio, erano tantissimi tifosi in strada, poi hanno riempito San Siro e volevamo regalare loro una bellissima partita con una vittoria e questo è importante perché vogliamo dare soddisfazione a loro.